Automobili, che passione, ma a volte, accidenti, specie in questa delicata fase storica, al netto dei tanti, troppi, rincari in tutti gli ambiti, anche i listini delle vetture ne risentono, uno spiraglio di luce arriva dalla C. specie in questa delicata fase storica, al netto dei tanti, troppi, rincari in tutti gli ambiti, anche i listini delle vetture ne risentono, uno spiraglio di luce arriva dalla C. specie in questa delicata fase storica, al netto, al di là di ogni considerazione e connotazione politica, e andando oltre discorsi di natura filosofica, culturale e ideologica, la Cina rappresenta un terreno floridissimo per tutto. Al di là di ogni considerazione e connotazione poli da sempre, siamo stati abituati a guardare con un certo interesse alla dicitura apostrofo made in China, fatto in Cina, dai più piccoli prodotti in termini di dimensioni ai più enormi dispositivi da sempre, siamo stati abituati a guardare con anche nel settore delle auto questa tendenza non è certo venuta meno, anzi, nel corso del tempo, la popolarità delle auto cinesi è andata via via aumentando seguendo il light Anche nel settore delle auto questa tendenza non è quale. Quello di una crescente impennata di qualità strutturale dei beni messi in vendita contraddistinta però da un livello di prezzi decisamente low cost, alla portata di tutti, competitivi, prodotti buoni, di livello, e che però non costano un occhio della testa Da sempre comprare cinese e quanto alle auto. Se fino a qualche tempo fa vi era un certo quel step da colmare rispetto ai mercati e ai brand tradizionali, adesso la Cina è in grado di offrire una moltitudine di E quanto alle auto? Se fino a qualche tempo fa vi era un certo La serzione compro cinese è così divenuta non solo sinonimo di risparmio, ma anche di ecce Adesso la situazione è diventata, semmai, del tutto sbilanciata in favore della Cina, a ben vedere, non solo, infatti, si comprano auto di valore, ma anche dal Adesso la situazione Una ad esempio si compra appena con il valore di un unico e solo mese di stipendio Quale? Grazie